Un'altra applicazione dell'induzione elettromagnetica è il pick-up delle chitarre elettriche. Il pick-up è un avvolgimento attorno a un magnete permanente. Le corde della chitarra sono magnetizzate e la loro oscillazione crea un campo magnetico variabile che va a creare un flusso magnetico all'interno di questa bobina, cioè nel pick-up. La bobina quindi subisce l'induzione elettromagnetica, emette un segnale elettrico che viene poi inviato all'amplificatore e genera il suono.